È l'avvocato professore Bruno Barrelli, tradigiano di 72 anni, nativo di Vittorio Veneto, il primo procuratore di San Marco chiamato alla guida della procuratoria che si occupa della tutela e della salvaguardia, della basilica cattedrale di San Marco a Venezia, del campanile Paron de Casa e delle loro relative pertinenze. Lo ha scelto all'unanimità il nuovo consiglio della procuratoria, formato da sette componenti. All'insediamento ufficiale dell'organismo che opererà in stretta sinergia con il proto della basilica, architetto Mario Piana, è giunto anche l'apprezzato saluto e l'augurio di buon lavoro dal parte del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che ha rivolto poi anche sentite parole di ringraziamento ai procuratori uscenti Carlo Roberto Tesserin per tre mandati primo procuratore, professore Amerigo Vestucci e architetto Marco Zordani. Ecco le prime parole di Barai che ha scelto le nostre reti. I colleghi hanno avuto la fiducia di nominarmi primo procuratore e quindi legale rappresentante di quest'ente. Abbiamo una grande responsabilità e lo sappiamo di restaurare questo bene proteggendolo dall'acqua alta ma anche da tutti gli altri rischi. Accogliamo ogni anno più di 3 milioni di visitatori alla basilica e il campanile e dobbiamo quindi garantire la sicurezza sia delle persone sia della basilica, rendo conto che tuteliamo un bene dell'umanità e che è anche un riferimento altissimo della cristianità nel mondo. La nomina del nuovo consiglio di durata triennale è del ministero dell'interno d'intesa con il patriarca. Gli altri sei consiglieri sono il presidente del CNEL e di Venezia per la sostenibilità Renato Brunetta, il notario Paolo Chiaruttini, l'architetto Alberto Torsello, Monsignor Angelo Pagan, braccio d'elto del patriarca Francesco, il dottor Renato Poletti e la dottoressa Chiara Boldrin.